Non amava l'arroganza, soprattutto quando questa significava un'omologazione delle idee. Era veramente un appassionato della libertà e della verità e questo lo dimostrava straordinariamente vivendo il suo rapporto con la montagna. Credo che questa sua passione per le alte vette sia anche un poco l'emblema, l'immagine di come lui intendeva vivere la vita ben ossigenata, guardando alto, guardando lontano, ma poi anche con i piedi molto per terra.